Siamo qui con Anselmo Robbiatti, chi meglio di te stasera riesce ad unire il viola della Fiorentina con il giallo del Valdarno in una serata come questa? Che significato ha questa scena di beneficenza che ha organizzato il Calcit in collaborazione con il Valdarno FC? Per me è un segno importante perché sono impegnato sia con il Valdarno, con la società a Valdarno, quindi essere qui e mettere a disposizione anche la mia immagine come giocatore viola è importantissimo per un evento così importante come quello sempre benefico e aiutare il Calcit è ancora più importante perché aiuta le persone che sono in difficoltà, hanno dei problemi e quindi abbiamo voluto appunto avvicinarci a questa associazione per cercare di aiutare chi ha più bisogno di noi. Quindi calcio e solidarietà è un fenomeno vincente? Certo, deve essere. Dai numeri che dicono stasera ci deve essere tanta gente quindi anche la gente ha voglia di fare del bene in questi momenti che anche se c'è magari un pochettino di crisi la gente ha voglia sempre di venire e dare un contributo per aiutare perché hanno più bisogno. Grazie.